Ti tira, ti tira, ti tira. Vedi? Tu da solo metti la. Capisci? Ti tira a sinistra, ti metti dentro a sinistra. Dai. Eri, sei stato così, vedi? Lo era così. Vedi, ti tiene, bene. Ti ti tiene, metti. No, 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 tu devi inserir il talone. Guarda, metti come me. Non faccio di là, non, 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 faccio di là. E' vicino. Si. Lo che ne metti. Io vado su, e talone è inserir il talone. Vedi? Quasi. Talo ne va avanti. Quasi devi fare. Capisci? Avanti. Ero, quasi. O, edes, inserir il talone. Puoi, puoi. Il senso, puoi, puoi. Vedi? Du di bene. Il senso, puoi, 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 puoi. Si, puoi, puoi. Il bene è piaccio di, pui, puoi, puoi, puoi. Quasi non puo, puoi. Hop, chiudo, vedi, vado indietro, e guarda cosa faccio, potete fare questa cosa, ho già matrato, te la ricordo, però non ricordo, ancora una volta, lui mi attacca, io dai, io scappo, vedi, posso anche così, inserire, vedi, posso andare qui, tirarti, e guarda, qua controllo, vedi, è una cosa semplicissima, posso fare anche qui guarda, vedete così, guarda, i controllo, non mi controllo, io vengo da qui, controllo, controllo gamba, vedi, vedi, provi libera, vedi, hop, hop, guarda ancora, ok, cosa faccio, hai spettato questa cosa? no, questo, tutto questo dobbiamo imparare, dimostro prima la possibilità, quello che potete fare, qui, guarda, provi, attacchi, 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 seguite, urmò primo, va bene, cont cinco, questi controlli, minuto nei phiALDRO? vedi, vi vei, quando vado chiudo, per sobre los braci, vedi, span, 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 sch Close, guarda, questi controlli,tan, vedi, si non vai controllo, poi paga, paga, fata, guarda, se non va così posso andare qui, basta che controllo, aspetta, basta che qui controllo tuo braccio, questo è importantissimo, ok, poi prova a piegare sinistra, braccio sinistro, no piegare verso pezzo, verso pezzo, guarda, vedi? Cosa senti? Subitivite, capito? Io non vado qui, ok, qui, non vuoi, ok, posso andare qui, 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 e provare a andare qui, tutte queste cose si può fare, poi ti mostra ancora un'altra cosa, guarda, Pam, sono qui, vedi? Da collo, non va, vedi? Prendo presa, guarda, faccio, e butto, 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 a terra, e adesso guarda, da tua presa, perché questa presa era da te, ora ancora una buona, tu, poi devi venire così, e poi prendere qui, vedi? Qui, qui, vai, ovi sei libero, no, 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 questa presa, questa presa rimane, vedi? Io vado ovi sei libero? Io vado, io vengo qui, vedi? Poi pian piano vado qui, e qui, ma questa mai visto io? Sì, sì, mi fa nuova.